Presidente, un incontro con il nuovo responsabile nord-est per l'ANAS, tanti progetti in comune e una collaborazione che sta andando avanti. Sì, la riorganizzazione di ANAS ormai è un fatto, sta diventando di nuovo un grande player nazionale ed internazionale sulla viabilità, a cui noi siamo particolarmente interessati, siamo regione autonoma, abbiamo la nostra struttura di viabilità ordinaria, penso ad FWG Strade, penso ovviamente anche alle grandi opere che stiamo facendo come la terza corsia, c'è necessità però di avere una collaborazione istituzionale sempre più forte e sempre più intensa con ANAS, con cui stiamo anche costruendo rapporti societari importanti, penso al nuovo soggetto, alla nuova NUCO di Autovie Venete. Quindi un rapporto che si sta rafforzando, che si sta consolidando e che sicuramente arricchisce questo territorio, lasciando sul territorio nuove infrastrutture e soprattutto riorganizzando e ammodernando quelle esistenti. E questa collaborazione è importante. La cosa poi particolarmente importante è di essere riusciti ad ottenere un rafforzamento del presidio operativo sul Friuli Venezia Giulia. Questo è per noi un risultato che vale tanto, perché oggettivamente spesso abbiamo sentito in passato, negli anni passati, ANAS lontana, ora con questa riorganizzazione il presidio territoriale operativo sul Friuli Venezia Giulia è ancora più forte, è ancora più presente ed è fondamentale soprattutto per le collaborazioni future.